suonare la batteria in casa questo è il problema che hanno tutti i batteristi avevo già fatto un video un po di tempo fa dove vi faccio sentire come funzionano i piatti still symbol della millennium piatti secondo me validissimi che infatti in questa seconda quarantena sto utilizzando a casa per studiare quindi come vi faccio vedere come ho impostato il mio setup di studio in casa appunto per non disturbare i miei vicini visto che sono un appartamento e studiare in modo tranquillo e pur sempre efficace allora io ho montato un i hat semplicissimo della still symbol millennium che come sentite fa pochissimo rumore e anche se lo utilizzo con il piede questo è il rumore pensatolo aperto questo è il suono potrei montare anche un piatto ride però ho lasciato stare per motivi di spazio anche perché per quello che sto studiando adesso non mi serve poi ho montato un semplice pad della focus un pad che utilizzo come rullante e poi questo pedale per cassa montato con un pad tramite un sostegno ok in questo modo io ho semplicemente charleston rullante cassa quello che mi consente di studiare la maggior parte delle cose posso studiare il fatback posso studiare il linear posso studiare coordinazione posso studiare indipendenza posso studiare gli ordimenti tutto quello che mi occorre posso studiarlo già con questi tre pezzi e non faccio casino sentite per credere naturalmente una componente molto importante nel mio set sono anche le bacchette perché come vedete io in casa utilizzo delle bacchette 7a faster della focus questo perché perché se utilizzassi bacchette 5a o magari anche delle bacchette per dire da marching band che sono molto più grosse chiaramente il suono cambia perché sono più pesanti questo è colpito con la marching la bacchetta da marching questo con la 7a sentite e sul pad lo stesso marching 7a quindi anche la scelta della bacchetta è molto importante e in casa potete pensare anche se non volete utilizzare le bacchette 7a perché sono fa troppo rumore ci sono anche le fruste di legno oppure le spazzole piaciuto questo video metti un like e condividilo sulla tua pagina ricordati di iscriverti al batterista zen io ti ricordo che insegno nelle scuole di albenga sanremo imperia valle crozia e sta per uscire il mio nuovo libro il batterista ostinato dove troverai dei workout quotidiani che ti accompagneranno per 28 giorni se vuoi preordinare il libro scrivi a stilfoglia che ho c'è al gmail.com grazie a tutti